Come lo scorso anno, anche quest'anno arrotonda a causa della pandemia, non ci sarà la grande festa per il Santo Patrono, Santo Antonio di Padova, ma la fede è tanta come pure la speranza di ritornare a riprendere il viaggio della libertà momentaneamente assopita. E allora fede, devozione e forza omaggeranno attraverso le preghiere più profonde il Santo Protettore. Cinque le messe che saranno celebrate in suo onore, la prima questa sera, le altre quattro nella giornata di domenica, 13 giugno, la giornata che festeggia Santo Antonio di Padova. Seguendo tutte le norme anti-covid, attenti e distanziati, i fedeli potranno seguire la Santa Messa. Si pregherà nell'attesa di ritrovare quell'equilibrio perduto, ma non la fede, verso il Santo dei Miracoli, come quello compiuto nella primavera del 1222, quando un boscaiolo, nel mentre tagliava della legna, un grande apete gli cadde addosso. L'uomo invocò l'aiuto di Antonio e riuscì a liberarsi. Ed allora, da quel primo leggendario miracolo, Antonio è il culto e la devozione di Rotonda.